Panel 2, transizione energetica, opportunità e soluzioni per l'impiantistica sportiva, introduce Mauro Rozzi, responsabile impiantistica sportiva della WISP nazionale. A te Mauro. Intanto buon pomeriggio a tutti e a tutti. L'introduzione ha anche lo scopo di provare a recuperare qualche minuto, quindi cerchiamo di correre anche perché credo che davvero la parte interessante sia quella della presentazione. Permettetemi soltanto appunto nell'ambito di queste sfide, di queste opportunità, come le abbiamo definite proprio nell'ambito di questo progetto articolo 72, lo SPO per tutti, dettato direttamente anche dall'ambito del terzo settore e voglio ricordare finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Permettetemi anche semplicemente ovviamente un ringraziamento alla WISP, al suo Presidente Tiziano Pesce, ma in particolare direi al gruppo di progettazione nazionale, a Torre Farina, per aver davvero realizzato non solo un progetto, e qui credo che il ringraziamento vada al gruppo di progettazione, ma ad aver centrato anche quelle che sono delle esigenze oggi sentite in modo particolare, anche nell'ambito delle gestioni. Per anni la WISP ha seguito l'ambito gestionale, in piantistica sportiva molto diffusa, in piantistica sportiva molto partecipata, perché comunque la WISP si è dotata anche di un'attenzione alle gestioni, proprio immaginando che questi contenitori, come li abbiamo definiti, poi lo vedremo dopo, fossero il luogo prediletto dove provare a costruire le politiche sportive. Siamo nell'ambito di un momento particolarmente delicato, usciamo dal post-Covid, ma siamo tuffati in un'altra emergenza, quella che è l'emergenza energetica, che ha messo in difficoltà proprio questo ambito, quello dell'impiantistica sportiva. Oggi parliamo solo di riequilibri di piani economico-finanziari, di difficoltà gestionali, citiamo spesso la sostenibilità anche dell'impiantistica sportiva, e credo che quanto mai sia centrato l'intervento di oggi, quindi insomma volevo proprio anche ringraziare per poter affrontare in questo secondo panel dove tratteremo appunto di transizione energetica e mi segnavo quindi di questa possibilità di ragionare di una trasformazione anche in corso e in essere, quindi non solo sulla parte energetica, perché di transizione e di opportunità andiamo a parlare. Allora ringrazio ovviamente Infinity Hub, andremo a conoscere questa importante proposta, anche qua mi pare di poter definire più un modello e quindi ancora maggior ragione credo che sia centrato con quello che ci siamo detti oggi, con l'idea di trovare delle sinergie, dei partner, la possibilità di collaborazioni. credo che se seguiamo la scaletta Massimiliano Berghin, socio fondatore, CEO di Infinity Hub, ci parlerà proprio anche di questa esperienza, anzi di questo modello, quindi io lascio la parola a lui e poi a ruota andremo direttamente, così magari potete anche gestirvi i tempi direttamente con Giovanni Cuttini, socio fondatore e responsabile area sviluppo di Infinity Hub. Grazie. Grazie mille a voi. Allora, io partirei da rintracciare un po' le connessioni. Noi siamo SPA Benefit, valutati e certificati ISG, quindi insomma partiamo subito da un punto di contatto con la relazione precedente. Noi siamo una energy social company, esistono le service company, però noi abbiamo una modalità di continua apertura del capitale sociale attraverso l'equity crowdfunding. Siamo nati nel 2016, abbiamo fatto la prima operazione di equity crowdfunding proprio nel 2016-2017, ci abbiamo preso gusto, siamo arrivati a 14 campagne di crowdfunding con oltre 5 milioni di euro di equity che si moltiplicano poi per 5 sugli investimenti. Ma il modello che cosa prevede? Prevede che in sostanza ogni grande progetto di riqualificazione energetica, il palazzetto dello sport, piuttosto che... Se si avvicina un po' al microfono, grazie. Ripeto tutto da capo. Ecco, qui abbiamo anche delle slide. Questa è la nostra sede, tra l'altro, di Venezia, in Canal Grande. E di fatto abbiamo... Usiamo per lato sport questo moto che è stato un po' il motto di fondazione del primo... Oh, perfetto. Io in realtà mi piace stare in piedi, però... Sì o no? Sì, sì, sicuramente. Veramente? Giura. Di fatto la difficoltà mia era proprio questa, cazzo. Scusate. Chi è concesso? Però non mi circola il sangue se rimango seduto. Ecco, questo è un po' un nostro light motive che utilizziamo soprattutto nelle tematiche di sport, perché forse quando si gioca e c'è lo sport è tutto molto più facile creare connessioni. E oggi che la tematica dell'energia è dirompente, se non un disastro, è evidente che creare connessioni è fondamentale. Sta andando avanti da sola. Benissimo. Ecco, come mai? Va avanti da sola? Vuol dire che devo andare in velocità? Ok. Ok. Va beh. Ci provo. No, sta andando avanti da sola. Va beh. No. Forse se è incastrato il bottone. Se è incastrato... Oh, fermi tutti. Perfetto. Ecco, questo è un grafico dei costi dell'energia, sostanzialmente, che un po' nel mese di novembre è ritornato giù, però gli effetti di queste riduzioni noi li vedremo mediamente con un ritardo di tre mesi. Per cui siamo un pochettino ancora nella fase alta. Che cosa possiamo fare? La nostra proposta è quella di avere un processo integrato di riqualificazione energetica, no? Si parla di lo sport, il pallone. Prima di gonfiare il pallone è meglio tappare un po' i buchi. Questa è l'efficienza energetica. Quindi riduciamo i buchi per poi utilizzare solo l'aria che è sufficiente per mantenere in tensione il pallone. Costruiamo, realizziamo, installiamo impianti fotovoltaici, pompe di calore, sistemi di trattamento aria, led, infissi, cappotti, eccetera, eccetera. Però non è questa la cosa più importante. La cosa più importante, come si diceva prima, è il metodo che noi utilizziamo. Questa, tra l'altro, è il nostro grafico di soci, che oggi supera i mille, tra infiniti, circa 500, e tutte le 13 nostre società, progetto, che abbiamo realizzato in sei mesi, in sei anni, scusatevi. Questa è l'organizzazione, è molto snella, 50 e 50 uomini e donne, l'età media è attorno ai 27 anni, sarebbe 25, però il CDA ha qualche anno in più come sottoscritto, per cui c'è un'età media che è sotto i 30 anni. Soprattutto management, gestione, economia, la maggior parte, devo dire, sono un po' campanilista, provenienti da Ca' Foscari, quindi dalla mia università di origine. Però oggi stiamo integrando con molti ingegneri, praticamente da tutta Italia, e anche da Bologna. Il business model è un po' questo, di solito c'è o una vendita di tecnologia, o una ESCO che si propone e fa uno legge operativo. C'è un rapporto tra due realtà. Nel nostro metodo, nel nostro modello, gli stakeholder, quindi anche gli sportivi, clienti fornitori dell'energivoro, fanno parte del progetto, entrano nell'equity, entrano nel capitale sociale. Quindi non solo i grandi investitori, ma tutti possono entrare nel capitale sociale, quindi beneficiare di quelli che sono i risparmi o i guadagni economici. E la cosa interessante è che le società di scopo che costituiamo hanno in pancia anche l'energivoro. Cioè, è come se venisse da voi una ESCO e vi dicesse noi vi riqualifichiamo l'immobile, questo è il noleggio operativo per 10, 12, 15 anni. Sai cosa c'è? In un quarto del capitale sociale di questo progetto voi potete beneficiare di dividendi. E questo è abbastanza forte nel mercato, è abbastanza esclusivo. E per cui rappresenta una revenue in più per l'energivoro che oltre ad avere risparmio può anche avere i dividendi dello stesso progetto che si va a realizzare per riqualificare l'immobile. Ma arriviamo un po' al lato operativo. E' evidente che noi non ci occupiamo solo di sport. Oggi il nostro mercato interessante, mi interessava la relazione precedente, è proprio il terzo settore dove il tema di aiutarsi di creare connessione è proprio un default. La maggior parte delle società del terzo settore sono cooperative pertanto si condivide anche il capitale sociale oltre che il capitale umano. Ed è così per ogni nostra iniziativa. Ed è così che si cresce. Ed è così che abbiamo realizzato 13 progetti dallo sport alla GDO al retail alla mobilità alle energie rinnovabili e molto, come dicevo prima, guarda caso, proprio nel terzo settore. Questo è il mercato che abbiamo di fronte. Queste sono le 30 ESCO più importanti nel mercato e noi ci posizioniamo per, diciamo così, per gamma di interventi e per apertura del capitale sociale in alto a destra. La cosa interessante è che queste ESCO molto grandi una parte di loro stanno lavorando per noi come subcontractor. Per cui a volte preferiscono lavorare sulle nostre iniziative piuttosto che lavorare direttamente per il cliente finale. Per una questione legato al social perché ogni nostra iniziativa fa due pagine di Google e perché effettivamente noi lavoriamo disponendo prima dell'equity poi della finanza e quindi lavoriamo con la liquidità in mano e a ogni sal siamo molto veloci nella liquidazione. Oltre al fatto che si diventa anche più famosi. Voglio dire, noi abbiamo 600 righe di Google abbiamo una cinquantina di interviste televisive eccetera, eccetera solo in 5 anni e mezzo 6 ma perché? Perché abbiamo moltiplicato dividendo cioè più aprivamo il capitale sociale con questa modalità e più si attivava la moltiplicazione e quindi siamo specializzati in realtà nel creare lo dicevo prima connessioni ma anche alleanze perché per noi è interessante lo studente universitario quanto il fondo di investimento tanto lo sportivo che fa sport nell'impianto sportivo quanto l'amministratore delegato della società sportiva ed è questo che crea la relazione ed è questo che ci mette in maniera trasversale senza competitor in questo mercato e in questo momento. Aggiungerei anche gli altri aspetti è ovvio che per crescere bisogna dare risultati e bisogna anche avere strumenti di gestione noi abbiamo tre applicazioni interne per quanto riguarda le diagnosi per quanto riguarda i business plan e anche per quanto riguarda la selezione dei costruttori ma una delle cose più interessanti è che secondo me abbiamo intercettato non dico un buco nel sistema ma qualcosa che non era coperto da nessuna realtà dovete pensare che fino a 5 milioni di investimenti per le start up innovative è possibile avere garanzie medio credito centrale o garanzie FEI e SACE in realtà per molto di più anche però bisogna avere dei criteri ISG noi non a caso la prima banca che ha creduto in noi è stata banca etica che in ogni nostra iniziativa fa una valutazione eccetera eccetera e questo ha permesso a tutte le nostre NUCO dopo aver raccolto l'equity perché le banche vogliono che almeno il 20 per cento sia messo che poi sia messo dai soci originari dall'energivoro da noi o dal crowd quindi da chiunque non si fanno particolari distinzioni una volta messo quello l'ottanta tecnicamente può essere anche no recourse nella misura in cui si ha una garanzia MCC che incide fino a anche l'ottanta per cento dei 5 milioni di euro per cui progettando le azioni avendo un modello certamente innovativo e virtuoso ogni nostra iniziativa è una startup innovativa o PMI innovativa ha le garanzie di conseguenza noi e i nostri partner possono moltiplicare all'infinito gli investimenti senza avere una garanzia loro corporate o fideusoria a pacchetti di 5 milioni noi siamo nati cavalcando quest'onda quest'onda adesso ci ha portato in borsa dal primo di agosto siamo in elite private market di borsa italiana perché è un peccato non crescere ancora di più ed è un peccato non coinvolgere l'alta finanza su questa iniziativa perché spesso l'alta finanza rimane molto fuori dalle tematiche di energia di efficienza energetica perché spesso vengono fatti un po' triste dirlo dagli stessi che poi ti vendono l'energia quindi io come potrei far smettere voi di fumare se poi vivendo la sigaretta no noi non vendiamo energia né gas neanche meno come il diavolo e di conseguenza quando facciamo efficienza l'interesse nostro è portarvi in un percorso dove produrrete tutta la vostra energia oggi c'è un tema fortissimo che è quello delle comunità energetiche che se Dio vuole fra qualche giorno ora chi lo sa settimana insomma avrà la luce le linee guida quindi sapremo perfettamente qual è l'iter amministrativo e le dimensioni delle stesse però è un momento particolarmente interessante perché gli strumenti ci sono anche finanziari l'equity crowdfunding italiano è tra i migliori in Europa come normativa e permette ha permesso anche lì una crescita quasi come la nostra dal 2016 a oggi l'equity crowdfunding è cresciuto di 40 volte come la nostra crescita di Infinity Hub però servono strumenti e li abbiamo servono anche persone e abbiamo sempre integrazioni continue servono anche portali e banche quelle sotto sono le banche con cui oggi stiamo lavorando ce ne sono altre sette diciamo in stand by e quattro sopra sono i portali che abbiamo utilizzato per fare le nostre 13 operazioni di equity crowdfunding parliamo di crowdfundme di we are starting di back to work e anche di eco mill molto vicino al mondo banca etica questi sono gli indicatori standard medi dei nostri progetti a sinistra vedete la situazione pre intervento quindi il costo dell'energia post intervento il canone di noleggio e l'energia residua acquisita questi sono è un grafico molto standard che è la media dei nostri interventi poi ci sono realtà proprio nel mondo onlus che ci prendono gusto ci sono alcune realtà anche proprio di Bologna con cui abbiamo una, due, tre, quattro società e hanno capito che a volte è interessante non solo cambiare i led le caldaie i cappotti gli infissi ma magari in taluni casi è possibile anche integrare la struttura l'involucro anche con ampliamenti stiamo iniziando per un'incidenza del 20-30% dei nostri progetti anche ad occuparci di parti strutturali degli immobili perché quando si va a toccare l'impiantistica spesso è bene anche mettere mano all'involucro della struttura e magari anche bancando quelle operazioni che magari l'energivoro non riusciva a bancare o non riteneva in quel momento opportuno utilizzare la propria ricchezza il proprio patrimonio e la propria centrale rischi per queste iniziative questi progetti scaricano la parte debitoria direttamente sulla Niuco scaricano l'energivoro e rendono bancabili ciò che bancabile non è non a caso uno dei nostri primi progetti è stato proprio il Parayamamai di Bustarsizio l'abbiamo riqualificato giusto quattro anni fa l'immobile tra l'altro era pubblico però la società sportiva che ce l'aveva in gestione per 25 anni aveva anche diritto di opere straordinarie per cui noi abbiamo fatto un relamping completo sostituzione totale delle caldaie con due caldaie da un megawatt e mezzo fotovoltaico già ce l'avevano le UTA e l'abbiamo costruito praticamente in un anno oggi tra l'altro scollinato i cinque anni è a reddito e distribuisce anche dividendi ai soci che sono entrati questo progetto l'ha finanziato Banca Etica per l'80% e per il 20% sono entrati una trentina di soci che comunque gravitavano attorno alla realtà sportiva poi da lì abbiamo riqualificato anche centri poliambulatoriali quindi siamo entrati nel tema welfare abbiamo fatto il primo project financing italiano in equity crowdfunding di fronte a San Marco Venezia questa è un'isola del demanio gestita da un srl 100% del comune di Venezia noi abbiamo fatto una diagnosi come identicamente come se lavorassimo con un privato il pubblico ha accettato il nostro business plan è diventato di pubblica utilità abbiamo partecipato alla gara migliorando noi stessi e vincendola e dopo un iter autorizzativo un po' complesso di circa un anno potete immaginare mettere i pannelli fotovoltaici con la visuale da San Marco però ci siamo riusciti perché comunque abbiamo siamo andati ad installarli non sopra i mobili museali ma su gazebi e su strutture che erano attuali come realizzazione questi sono dei rendering poi questo è un grande impianto fotovoltaico realizzato sopra un centro commerciale e questa è la sede di una onlus importante di Bologna che è diventata totalmente autonoma dal punto di vista energetico sostituendo le vecchie caldaie a metano con pompe di calore integrando le fotovoltaiche batterie e led la struttura può essere off grid come la chiamano i tecnici oggi abbiamo anche in coming soon un enorme progetto in Sicilia sono quasi 20 milioni di euro di opere per una IRCS quindi un ospedale anche questo onlus e tante altre realtà il nostro processo standard parte da la stesura diciamo così di una joint venture noi solitamente abbiamo uno standard dove spieghiamo l'iter e di fatto se il business plan è interessante per voi andiamo a costruire quasi subito un SRL di scopo per realizzare e finanziare l'opera dopo la firma della joint venture facciamo un'analisi di fattibilità quello che dicevo prima mette assieme le diagnosi con il business plan costituiamo l'SRL raccogliamo la parte del 20% di equity con i portali che avete visto prima finanziamo e poi da lì iniziamo la realizzazione delle opere quindi costruiamo e poi l'operation e maintenance mediamente per i 12 15 18 20 anni dipende dai payback dai tempi di rientro dell'investimento stesso io avrei terminato abbiamo anche una checklist interessante che spesso inviamo che può essere una veloce verifica per singolo impianto con una tolleranza di errore significativa di quello che può essere il progetto preliminare prima ancora di arrivare diciamo fisicamente in azienda e questa è la nostra esperienza sicuramente direi condivisa e anche dal nostro punto di vista anche utile grazie davvero un ringraziamento a Massimiliano Braghin adesso prima di passare a quelle che possono essere anche delle prospettive allo sviluppo comunque anche ci interessano anche situazioni in casi concreti quindi con Giovanni Cutini poi affronteremo anche questo tema direi di ricollegarlo proprio a quello che è anche uno dei fili conduttori che abbiamo scelto all'interno della progettazione dell'idea del percorso che il settore impianti sportivi vuole affrontare abbiamo ahimè dovuto nel periodo anche covid affrontare quelle che erano delle consulenze delle assistenze dirette alle nostre realtà ma abbiamo riniziato ad affrontare anche invece quello che è un'analisi alla ricerca di una nostra visione molto personale identitaria di quello che è l'interpretare l'impianto sportivo WISP proprio nell'idea che la WISP possa dotarsi non solo di una visione etica dell'interpretare l'attività sportiva e motoria ma anche di un'impiantistica che risponda a quelle esigenze quindi ecco in particolar modo alcuni riferimenti che avete fatto credo che calzino assolutamente con quello che è questo percorso l'abbiamo affrontato giusto qualche settimana fa nell'incontro nel convegno che abbiamo tenuto nel parco di San Rossore sull'accessibilità l'innovazione la sostenibilità insieme anche ad un partner molto importante per WISP e Copneus e quindi siamo proprio anche alla ricerca di questa rete di queste collaborazioni perché devono essere un supporto ai gestori attuali ma soprattutto l'idea di realizzare quello che è un percorso più ampio e trasversale della nostra gestione quindi ci interessa anche particolarmente quali possono essere dei modelli e delle opportunità di sviluppo e lascio la parola a Giovanni Cutini Sì grazie a tutti grazie per l'invito ma io partirei proprio da quest'ultima tua affermazione cioè nel senso che oggi quando parliamo di impianti sportivi parliamo di impianti sportivi inseriti in determinati contesti all'interno di diciamo così aree molte volte industriali e quindi la prima cosa abbiamo parlato prima di comunità energetiche Massimiliano non ne parlava direi che proprio è questo la comunità energetica diventa al di là di quello che ci vogliono far credere vogliono farci aspettare ancora un po' faccio un po' il polemico nel senso che ci hanno detto ormai da sei mesi che questi decreti attuativi queste linee guide devono uscire non sono ancora usciti sta finendo l'anno noi speriamo che nei prossimi 15 giorni qualcosa succeda è chiaro che ci sono anche qui delle lobbying molto forti che spingono in maniera contraria mi verrebbe da dire ma al di là di questo quello che diceva prima il presidente dell'Asvi che parlava appunto che questo sistema economico non può più funzionare in questo modo le comunità energetiche danno una risposta chiarissima è una risposta molto importante molto forte e devo dire che un impianto sportivo all'interno di un bacino d'utenza molte volte di una periferia italiana di una città italiana molte volte all'interno anche di contesti industriali può diventare un hub di produzione di energie che poi viene piano piano distribuisce a grandissimi energivori per cui questo è un po' il punto diciamo così di collegamento noi possiamo diventare grazie alla comunità non energetica proprio un centro di produzione di energia per la collettività e diventa un po' uno degli elementi secondo me veramente più importanti in questi per voi e per il vostro futuro che dire del case history che vi voglio presentarvi adesso vi farò anche vedere un video avevamo un investimento totale come diceva Massimiliano di 330 mila euro investimento che è stato prodotto e calcolato attraverso una diagnosi energetica e un business plan che abbiamo fatto chiaramente in maniera precedente a quel punto abbiamo costituito questa società come diceva Massimiliano con l'associazione sportiva l'associazione sportiva ha coinvolto anche i tifosi abbiamo fatto un po' di comunicazione quindi anche l'elemento comunicativo è molto importante è un elemento comunicativo nel territorio pensate solo a coinvolgere tutti i vostri associati che diventano loro stessi proprietari di una riqualificazione energetica dell'impianto che voi gestite quindi diventano delle diciamo così sinergie comunicative molto interessanti e molto 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 produttive anche in termini di valore non solo economico ma anche di valore collettivo di valore di fiducia reciproca che si si sviluppa e ci siamo appunto in un qualche modo subito siamo partiti con una piattaforma di crowdfunding per fare l'equity crowdfunding abbiamo raccolto 65.000 diciamo così euro di finanziamento più o meno sono stati 20-22 persone che hanno investito questa era una delle nostre prime campagne poi dopo mediamente abbiamo un numero che è uscito dai 100 ai 200 investitori devo dire che la cosa interessante è stata proprio la grande enfasi che anche l'associazione sportiva ha dato a questo tipo di operazione tanto che oggi l'associazione sportiva riuscirà attraverso la nostra controllata SBA a distribuire anche dopo 5 anni i primi utili quindi nel 2023 quindi con la presentazione del bilancio 2022 distribuiremo i primi utili a chi ha investito all'interno della nostra società il ROI più o meno è del 9-10% perché chiaramente i business plan che vengono sviluppati all'interno dei nostri studi ma all'interno del mercato ambientale del risparmio energetico è tale che ci permetta veramente di dare un ritorno dell'investimento molto alto questo è fondamentale per farvi capire anche la differenza dalle altre ESCO perché noi non siamo non vendiamo come diceva appunto Massimiliano prima energia quindi non siamo la ERA la IREN del caso che fanno benissimo il loro lavoro non entro nel dubbio però noi ci occupiamo di sviluppare dei processi anche educativi sul territorio abbiamo parlato prima di educazione sportiva che si sposa fortemente con l'educazione ambientale e quando noi già dai nostri impianti facciamo vedere che risparmiamo e che addirittura autoproduciamo la nostra energia senza più bruciare nulla perché questo è il nostro teorema cioè il nostro teorema è non bruciamo più nulla quindi non usiamo più gas che sia metano che sia perché il metano fa male come fa male il petrolio bruciare il petrolio bruciare anche carbone cioè forse fa ancora più male per il nostro ambiente quindi da questo punto di vista noi siamo convinti che il nostro sistema funzioni anche perché coinvolgiamo il nostro partner non gli diamo uno sconto del 10% sulla bolletta lo coinvolgiamo dandogli ben di più in termini sia economici ma anche in termini di valori assoluti che gli proponiamo dalla comunicazione una comunicazione positiva al fatto che ha un ritorno dell'investimento perché è socio al fatto che si costruiscono dei sistemi di fiducia molto forte prima parlava Massimiliano che coinvolgiamo tutti i fornitori i fornitori vengono coinvolti nell'equity crowdfunding investono direttamente nell'equity crowdfunding una piccola somma ma in questo modo sono nostri soci e questo diventa una cosa molto più interessante non sono fornitori sono soci della società che gli darà poi il lavoro quindi a questo punto non mi resta che farvi vedere un po' il video questo video vi fa vedere un po' le attività che sono state svolte all'interno un video cortissimo per cui non vi ruberò altro tempo non link è un link c'è scritto link su link e deve essere forse una powerpoint forse è meglio beh mentre lo ricerchiamo che intanto riusciremo poi agganciarci ma intanto ovviamente se ci sono domande ben volentieri così intanto approfittiamo anche della disponibilità intanto alcune quotazioni perché stiamo ragionando di quotazioni in borsa ma di benefit sulla fiducia avete citato che di centri di produzione di energia ma anche della comunità cioè c'è sempre questo parallelismo di attenzione a quello che è un percorso e questa è una parte che è molto particolare molto interessante nel quale siete orgogliosi di avere accompagnato la realtà noi stessi spesso ci confrontiamo sulla necessità di professionalità nell'ambito gestionale e non sempre nella capacità delle realtà di essere in grado di affrontare delle sfide importanti di questo tipo ecco quindi volevo proprio tornare sulla possibilità di realtà sportive che abbiano la gestione abbiano oggi ovviamente la necessità di affrontare tematiche di efficientamento tematiche nuove rispetto alla sostenibilità dell'impianto ma di essere accompagnati con questo progetto quindi cioè quindi riuscite a seguire anche chi si vuole approcciare a questo percorso noi cerchiamo quando siamo nati nel 2016 di fatto volevamo utilizzare strumenti di finanza e portarli a chi non li utilizzava quindi a retail e abbiamo avuto la fortuna che in quel momento 2016 è stato il primo anno vero dell'equity crowdfunding in Italia entrare in una campagna di equity crowdfunding si entra in aumento di capitale quindi c'è una valutazione d'azienda delibera straordinaria notarile modifica dello statuto è una micro quotazione perché anche l'ingresso in borsa è in aumento di capitale a volte parziale exit però sostanzialmente è in aumento di capitale e quindi è un processo molto piccolo ma che fa anche educazione alla finanza fare educazione alla finanza significa non andare in banca con il cappello in mano e continuare a farlo continuare ma analizzare quelli che possono essere gli strumenti finanziari utili innovativi prima si parlava di ESG tale per cui sia quasi certo il finanziamento anche a prescindere a volte da quanto patrimonio io ho ma sicuramente dal business plan del progetto sulla questione consumi energetici a me piace evidenziare mi piace una frase che la dico spesso che lo spreco energetico è un capitale il cui dividendo va equamente distribuito sembra uno simolo però è così perché fino a quando noi compriamo le energie a costi folli il beneficio ce l'ha solo uno nella misura in cui io efficiento quindi faccio delle azioni nel nostro caso neanche le acquisto ma partecipo è evidente che quel ricavo che c'era prima che era il mio costo si assottiglia e una parte diventa un guadagno sembra paradossale ma è un esercizio interessante da fare quindi perché non utilizzare quegli strumenti che usa l'alta finanza perché non utilizzare quelle connessioni che usa l'alta finanza dove si conoscono tutti no per cui a questo punto dico portiamo questa esperienza portiamo questi metodi ad un livello retail insegnamoli non solo ai giovani perché non esistono solo i giovani ma insegnamoli ai nostri piccole e medie imprese perché probabilmente possono riuscire a moltiplicare per due tre volte gli investimenti che fanno oggi e che ogni volta deve esserci la garanzia a volte personale a volte la fiduzione a volte l'aumento di capitale a volte l'ipoteca i nostri progetti con garanzia MCC hanno necessità di un accantonamento che gira attorno al 10% rispetto al debito che è bassissimo un finanziamento ipotecario a volte arriva al 50-60% di accantonamento nel sistema bancario quindi vuol dire che con un progetto dei nostri con sei progetti dei nostri la banca accantona quanto per un progetto normale dove c'è un chirografario o un ipotecario e questo chi lo sa chi lo sa non si sa e il crowdfunding che è uno strumento straordinario dove non dobbiamo pensare che ci sia solo la start-up innovativa che va su Marte ma ci possono essere progetti seri con un rischio rendimento interessante dove c'è un energivoro che comunque è il suo bel bilancio che risparmia con un noleggio operativo che è la parte di ricavi della SPV della NUCO e quindi insomma mettendo assieme tutte queste cose qua diciamo che insomma un po' di creatività finanziaria e un po' di ogni progetto è sempre più bello più completo si è arrivati oggi in maniera molto efficace nel terzo settore dove alcuni player tra i più importanti del terzo settore dichiarano che questo modello fa bene anche al loro management e lì arriviamo al dunque perché non è solo risparmio energetico ma è anche un'educazione manageriale finanziaria perché un'azienda è no profit cosa vuol dire che non deve essere efficiente e efficace dal punto di vista finanziario lo deve essere di più perché spesso i soldini non sono neanche suoi quindi questa rincorsa all'efficienza e l'efficacia finanziaria deve essere in linea con gli strumenti etici che ci sono oggi e l'equity crowdfunding per noi è uno strumento straordinario perché oltretutto come diceva Giovanni crea anche relazioni noi abbiamo il 25% dei nostri soci nella nostra galassia che quindi sono 250 persone che non hanno mai investito nelle rinnovabili se non attraverso i nostri progetti anche questo è un indicatore straordinario per noi che forse si avvicina a quelli di ISG che mancavano prima di essere valutati quindi non solo IRR non solo progetti non solo CAPEX ma anche il fatto che in 5 anni su 1060 investitori 250 non avevano mai investito nelle rinnovabili questo è un aspetto interessante io ho tre figli maschi però se do degli input a volte qual è il risultato se invece faccio un esercizio assieme il messaggio passa e l'educazione diventa fortissima diventa anche imprinting per poi andare avanti anche da soli volendo però questo è diciamo un beneficio di mettere tutti assieme le discipline sport straordinario contesto il terzo settore lo stesso quindi socio sanitario ancora più etico però insomma siamo lì ma perché non usa questa finanza che c'è e non può essere considerata solo utile per la start up innovativa che va su Marte faccio per dire perché lì arrivano miliardi e qui magari serve anche un po' meno e questo è un giusto anche equilibrio di rischio rendimento evidentemente perché è inutile pensare a rendimenti mille per quando il 99% delle start up magari è un disastro è più interessante a volte equilibrare il paniere degli investimenti avendo rendimenti a due cifre ma con una percentuale di disaster che non è il 99% è l'1% perché perché il progetto è etico perché la onlus è sana che paga il noleggio operativo e perché genera un qualcosa di utile subito e che crea relazioni e che crea anche come diceva Giovanni la possibilità di sviluppare assieme anche comunità energetiche sulle aree sui parcheggi sui tetti mettendo a reddito qualcosa che oggi a reddito non è anche per le strutture sportive ci riguardiamo un po' strano perché non siamo su Marte ma un po' sulla Luna pensavamo perché per noi è sempre stato molto complicato mettere insieme questo tipo di situazioni quindi ottimo forse ci dicono che il link dovremmo averlo quindi una sola finisco solo per dire una cosa che il risparmio energetico con la produzione di energie rinnovabili oggi è il più grande business che noi possiamo fare e quindi questa cosa ce la finanziano tutti e quindi questa cosa noi siamo degli advisor ed è facile è più facile di quello che pensiamo l'importante è sporcarsi le mani cioè entrare dentro il progetto farlo e avere comunque come diciamo più la fiducia di tutti che devono sviluppare questo progetto insieme a noi questo è un po' il punto grazie guardiamo il video che così dopo bravo Paolo grazie a tutti 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 complimenti ancora ovviamente un ringraziamento a Infinity Hub SPA Benefit risottolineo Benefit perché era il collegamento che dicevamo prima domande approfittiamo della loro disponibilità ancora qualche minuto quindi abbiamo giusto il tempo anche per qualche domanda si era già prenotato la domanda la domanda la domanda è una risposta alla battuta di Tore ci hanno confuso ancora più le idee assolutamente è vero in parte io però faccio una riflessione io faccio una riflessione che c'era un tale che diceva che se continueremo a fare le cose che abbiamo sempre fatto otterremo quello che abbiamo sempre ottenuto e dico mi sembra che fosse Einstein e la valutazione che faccio è questa e diciamo che è una domanda ma più che una riflessione che voglio fare ma Infinity Hub SPA Benefit l'idea di strutturare delle collaborazioni permanente non su singoli progetti che poi attivano progetti con delle piattaforme che non sono le piattaforme le banche che ti finanziano ma che sono comunità di crowdfunder ok cosa voglio dire io e penso a voci alta io sono un collaboratore della WISP non sono però se non ricordo male WISP ad oggi ha circa un milione di soci no quindi potenzialmente sono un milione di soggetti che potrebbero anche essere interessati a donare 50 centesimi a un'iniziativa e ha un effetto moltiplicatore perché queste persone sono imprenditori sono donors del 5 per 1000 potenzialmente quindi come voi avete ottivamente rappresentato quello che è l'effetto moltiplicatore e i vantaggi che ci possono essere la domanda che io mi faccio ma pensare a una collaborazione che si struttura non su singoli progetti ma come diciamo piattaforma di risorse per poi selezionare i progetti strategici in base a delle capacità che ciascun territorio ciascuna realtà ha di fare poi quella che è l'attività principale di animazione di pubblicità di comunicazione come dicevi tu è una cosa possibile pensabile oppure è proprio una cosa che sto completamente sbagliando e non ho capito niente no no è la giusta evoluzione nel senso che noi quando siamo nati nel 2016 volevamo solo raccogliere un po' di equity come si fa per una start up per trasferire il modello in un approccio industriale un qualcosa oggi devo dire che anche con Giovanni stiamo facendo incontri con associazioni non più con singole realtà perché è interessante creare un progetto anche regionale perché comunque si migliora l'economia di scala si intensificano le relazioni e si riesce prima a risparmiare energia te hai toccato un tema la donazione allora c'era qualcuno che diceva che la sostenibilità prenderà piede quando diventerà desiderabile come tante altre cose che oggi sono desiderabili noi abbiamo fatto un percorso anche artistico se vogliamo di immagine perché la caldaia e il led bello il video ma che cacchio non è non è per niente emozionale desiderabile va però ecco che trasformare un approccio da donazione che è spontanea e non ha bisogno di restituzione perché se no non è donazione non qualcosa che in realtà è lavorare assieme essere soci di capitale quindi coproprietari chiunque di un progetto educativo di sostenibilità aperto alle scuole all'università eccetera eccetera è diverso rispondendo a bomba sulla tua domanda se questo può essere in qualche modo trasformato in un algoritmo può essere trasformato in un portale di progetti locali eccetera eccetera certo che sì lo stiamo già facendo prima vi ho invitato ad una checklist di questionari che già vanno all'interno di un sistema e già iniziano a disegnare un progetto noi a Venezia abbiamo fatto un'alleanza con l'associazione Venezia albergatori 450 alberghi la maggior parte di lusso e abbiamo girato questa checklist il 20% in una settimana ha risposto con un questionario di 20 minuti abbiamo già un estratto di prediagnosi in due settimane e adesso stiamo facendo le diagnosi definitive quindi tutto parte attraverso quello che può essere un questionario compilato online con quelli che sono i consumi le tecnologie che oggi vengono utilizzate e quindi nella verifica se può essere interessante o meno un progetto però in realtà se c'è massa critica la cosa interessante è che tutti i progetti sono interessanti perché noi oggi facciamo fatica a far lavorare il nostro team su un progetto piccolo tipicamente questo progettino qui è più o meno 20 volte più piccolo rispetto ai nostri standard attuali però con un'associazione con un approccio come dicevi giustamente te in mezzo ci sta anche il progettino piccolo che assieme a 10 progettini piccoli 5 medi 2 grandi ecco che diventa un unico progetto che altrimenti se no non riesce a superare quella soglia di interesse non solo nostra ma anche delle ESCO classiche che a un certo punto ti dice ma io cosa faccio cambiamo i led mettiamo due pannelli magari ci sono gli infissi c'è l'involucro la caldaia ci sono una serie di cose che obbligherebbero ad una progettazione integrata che è il pallone che prima di gonfiarlo in qualche modo devo tappare i buchi quindi ben venga e devo dire siamo già strutturati per questo basta darci 100 indirizzi mail e in 24 ore partono 100 questionari se arrivano 100 questionari ecco che abbiamo un mega progetto allora prima che Ivano ci riprenda perché siamo riusciti a guadagnare tempo se ci sono delle domande flash volentieri aspetto alla provocazione di Marco visto i nostri numeri e quindi ritornerei all'antico al centralismo democratico se voglio dire lui si chiede 50 centesimi a tessera un milione sono 500 mila euro quindi come diceva Marco si può iniziare a fare un ragionamento anche di questo tipo qua con un'idea di sviluppo voglio dire su progetti che siano sostenibili come hanno detto loro e che possano poi in futuro fare da moltiplicatore penso per esempio a un comitato come l'Emilia Romagna che supera i 200 mila tesserati basterebbe un euro a tesserati e si può anche fare quel ragionamento che diceva lui prima è una provocazione la mia c'è la WISP 50 centesimi le miglioro magno un euro hai capito ok comunque va bene vi lasciamo provocazioni per provocazioni se non ci sono domande vabbè io intanto ovviamente ringrazio davvero Massimiliano Braghin e Giovanni Cuttini semplicemente una battuta finale perché avete parlato che forse l'innovazione vera è stata andare a lavorare là dove qualcuno non aveva mai lavorato o immaginare di utilizzare degli strumenti che magari nessuno aveva utilizzato ora lascio stare per un attimo la creatività finanziaria perché mi fa paura anche noi siamo stati molto competitivi su quello quindi per adesso quella la lasciamo stare noi abbiamo soci abbiamo passione abbiamo impianti abbiamo emozioni abbiamo una rete importante l'abbiamo visto prima forse non avremo tantissime risorse ma stiamo andando a lavorare laddove molti non hanno mai lavorato ed è far muovere coloro che sono sedentari che è il business di domani non il business inteso in parte economica ma quel business di attenzione di riferimento che abbiamo ecco quindi direi che forse su questo e non diamo delle risposte perché così possiamo trovare un'altra occasione ci possiamo lasciare perché anche noi stiamo immaginando di andare a lavorare là dove nessun altro ha lavorato grazie 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 ai nostri relatori grazie a Mauro Rozzi grazie a Massimiliano Braghin e Giovanni Cutini direi che possiamo consentirci 5 minuti di break e poi torniamo tutti insieme per il prossimo panel grazie a voi che avete recuperato tra Marta e la Luna un break grazie